E' veramente infattibile la situazione ragazzi No, non ci posso credere Aspetta, fermi, fermi tutti Vedo la lana, vedo la lana ragazzi Ci siamo, ci siamo, intersezione 2 Hi guys e benvenuti in questo nuovissimo video Bentornati sulla CTM Titans Revolte Allora, purtroppo, purtroppo è successo un casino Me ne sono accorto adesso, appena in tempo Cioè, spero Non mi stava registrando l'audio del microfono Ho avuto un problema Audacity è crashato E niente, quindi vi siete persi il primo pezzo Di quello che è successo in questo video In realtà non vi siete persi molto Perché sono stato per lo più zitto Anche perché qua continuo ad andare avanti in sti tunnel Trovo mob, muoio, eccetera Ma non succede niente Quindi, siccome volevo cercare di aumentare un po' il ritmo di questa serie Volevo evitare di fare troppi episodi in cui non prendo una lana Perché sennò diventa lunghissima sta serie E sto impazzendo Sto impazzendo perché questo dungeon è un casino E i mob sono veramente troppo, troppo forti Peraltro pieno di chest Ho trovato un sacco di chest 3, 4, 5 chest Non c'è nulla Nulla che posso usare Né un'armatura Né un'arma Nulla Tra l'altro sono anche morto una volta E vabbè Non l'avete visto Comunque Praticamente Non siamo esattamente nel punto in cui C'eravamo lasciati l'altro episodio Perché abbiamo Vabbè A parte il fatto che adesso sono andato avanti Ovviamente non lo vedrete Perché non c'era più l'audio Ma Nella live di venerdì scorso Abbiamo giocato Alla CTM Verso la fine della live Per una mezz'oretta Se avete voglia potete andarvi a recuperare quella parte E non è che avessimo fatto niente di che Ma avevamo scoperto che praticamente Il tunnel Il tunnel Il dungeon Continuava in una sorta di tunnel sotterranei Pieni Oltre ai soliti mob super forti Pieni di guardiani Praticamente era stato epico Perché io avevo visto questa struttura Che sembrava tantissimo Quella della lana Mi ci sono affiondato dentro Crollato il pavimento E sono finito lì in mezzo Ed è lì che è partito il video Quindi adesso sono andato avanti Per questi tunnel Sono perso Non ho la minima idea di dove sta andando E non ho la minima idea Di dove è la lana Peraltro c'è E' pieno di mob Ormai sto scavando nei muri E basta Perché è veramente infattibile La situazione ragazzi Se voi non avete idea Sto impazzendo Cioè se questa mappa Continua questa difficoltà Probabilmente non la finirò mai Perché non mi da Non mi da niente Non mi da Roba da poter usare Guardate 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 Cioè ci sono i guardiani Che mi prendono attraverso i blocchi Ma mi spieghi come è possibile Li vedo uno spawner Oh porca miseria Come si fa qua? No No Non ci posso credere No no Di nuovo no ragazzi Boh Sta mappa è troppo difficile Cioè voi non ne avete idea Ma è un'ora ragazzi Un'ora che sto registrando E non ho fatto ancora nulla Ok ci siamo Adesso trovo un modo anche Per superare questo dungeon Ce la farò Però più che altro che Cioè tra Ci sono i zombie Che con un colpo Ti tolgono metà vita Gli scheletri Veramente Esagera Cioè sono davvero Troppo forti Gli scheletri Ti distruggono Con una freccia E poi ho messo pure Sti maledetti Cosi strabuggati Sti guardiani Che anche attraverso i blocchi Ti prendono Poi danno una distanza Non so Non hanno Un raggio d'azione Questi no Questi ti prendono Da dovunque E avete visto benissimo Anche voi che Se gli metti un blocco davanti Il raggio non dovrebbe assolutamente Prenderti No a questi Il raggio supera pure I blocchi che mette a protezione Sta mappa È troppo complicata Peraltro Io continuo a dirlo Cioè questa mappa Non mi dà roba Per andare avanti È assurdo Non mi dà niente Ormai ho finito tutto Cioè le armature Non ho nulla Non ho roba di ferro A me serve la roba In realtà per far questa mappa E si farebbe comunque con difficoltà Mi servirebbe la roba Di diamante incantata Ma qua nemmeno quella Cioè qua mi devo contentare Di robe di pelle Oro Pietra Nulla di Nulla di che Ok lo spawner È stato drotto Incredibile Boh raga Cioè peraltro io Davvero non capisco dove sto andando Sto andando a caso Perché c'erano anche Altre strade da prendere Io ne ho presa una a caso Ma spero che sia quella giusta Perché Ormai la sto facendo tutta così Sto dungeon Perché è davvero impossibile andare avanti Non riesci neanche ad arrivare Agli spawner Per romperli Perché ci sono davvero Sti scheletri Che ti fanno volare in aria Ok ok Aspetta Fermi Fermi tutti Vedo la lana Vedo la lana ragazzi Ce l'abbiamo Oh incredibile Guarda Non avete idea Guarda Vedi che mi arriva Attraverso i blocchi È assurdo Sta roba è assurda Comunque non avete idea di quanto Io sia contento di lasciarmi Questo dungeon Alle spalle Spero che la prossima intersezione Ci dia qualcosa di Interessante Perché se no Mi Cioè Sta mappa non la continua Nel senso così Non è Non è fattibile Poi Che razza di contenuti Cioè Non posso fare dei video Dove scavo e basta Capite che non ha senso Peraltro Col fatto che non mi ha Mi ha perso Una parte della registrazione Devo pure iniziare Un altro dungeon Oddio Ok ok ragazzi Ok ragazzi Ci siamo Incredibile Ce l'abbiamo fatta Siamo arrivati alla lana Ci voglio credere Cioè Non ci posso credere Ok Ci siamo Lana Mi sono andato anche Lana azzurra Incredibile Ce l'abbiamo fatta Prendine una E speriamo che ci basta Non ho più neanche la forza Di esultare Perché questo dungeon Mi ha distrutto Completamente E adesso bisogna pure Tornare indietro Ragazzi Mi ero quasi dimenticato Ma noi si deve andare Non al monumento Ma alla nuova intersezione Quindi ci manca ancora Un pezzo di strada da fare Ok raga Siamo fuori Siamo fuori Incredibile Ok dobbiamo correre Ok raga Ci siamo Ci siamo Ci siamo Saliamo qua E siamo arrivati all'intersezione La strada per l'intersezione 2 Non ci credo ragazzi Vai 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 Eh Alla faccia che speed Raga incredibile Porca miseria Fighissimo Ci siamo Intersezione 2 Need call Look down Unbreaking x Fortuna 3 Bello questo Bello questo Ah lì c'è tutto il carbone Perfetto Mi piace questa cosa Ottimo Beh visto che siamo a corto di carbone Poi andrò a prenderlo Ok qua ce n'è un sacco Ma questo lo farò off camera ovviamente No l'unica cosa Da qua si può arrivare al monumento Vero non devo mica ritornare indietro Ti prego dimmi di nove Cioè se no Boh mi sfarci Ci sarà un Sì 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 Dai ci sarà Ci sarà sicuramente un teletrasporto No Di qua si può salire Ok no di qua Di qua si va sul tetto della mappa Mi sa che non è consentito andarci Se non sbaglio Era considerato cittare Ok Allora riempiamo di torci Così i mob non ci danno fastidio Visto che comunque notte potrebbero nascere Vediamo cosa dice qua questo cartello Ah Qua si parte già con il nuovo dungeon E alla faccia Che è sta roba Questa roba è troppo grossa Solar scar courtyard Intersezione 2 Non capisco se questo è il prossimo dungeon o meno Però qui dovrebbe esserci Fred in questa casetta Se non ricordo male O suo fratello O una cesta E già mi metti un creeper E allora sei infame Beh Roba che posso prendere Non si sa mai Ui Eccoci qua Eccoci qua Oh Scarpini di ferro Ma non c'è Fred raga Non c'è Vabbè Questo arco Non me ne frega niente Qui c'è Beh questo Lo prendo volentieri Cibo Però raga in tutto questo non c'è Fred Ho appena fatto una stupidata No Non ci credo Che idiota Gli scarpini Gli ho tolti da lì e sono caduti Ovviamente si è buggato tutto Sono finiti sotto nel fuoco Vabbè Vabbè Addio scarpini di ferro Potevamo essere felici Per una volta invece no Vediamo un attimo Cosa c'è qua in giro No Voglio capire perché lì Non c'è Fred E teoricamente dovrebbe esserci Tutte le intersezioni Queste non capisco Se è già il dungeon O no Non lo so Il problema è che Bisogna tornare al monumento Voglio vedere anche se c'è un teletrasporto Ma qui c'è un sacco di roba Wow Bellissimo eh Questo non ci piova però Ok Stai calmo Stai calmo Stai calmo Se ci va bene Se siamo fortunati Ho sbloccato il teletrasporto Per la nuova intersezione E ci arriviamo in fretta A recuperare la roba E chiudiamo questo video Prima che io impazzisca del tutto E spacchi tutto quanto Allora Intersezione 1 Intersezione 2 Perché non si è attivato il teletrasporto No Devo riandare No Tutto da qua Devo tornare lì raga No Non ci posso credere No Ok C'ho la volta Sono tornato Direi che Quella parte lì La esploriamo Nel prossimo episodio Io è da tanto che sto registrando Quindi direi che possiamo chiudere qua Senterò in questa casetta Allo spawn Lascerò la lana Qui dentro per sicurezza Mentre ci avventureremo In quella che sembra essere La prossima intersezione Mi raccomando ragazzi Se il video vi è piaciuto Spolliciate Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E attivate la campanella Per essere sempre aggiornati Su tutte le notifiche Seguitemi su Instagram Ecco la fase qui E attivate la campanella